Buongiorno a tutti, bentornati qui sul nostro canale YouTube, sulle pagine di Hardware Upgrade e Fotografi Digitali. Oggi sono venuto qui in Leica Store a Milano per vedere una cosa interessante. Non parliamo di un nuovo prodotto, ma parliamo di un programma molto interessante, Leica Classic, l'usato garantito e certificato di Leica. Quando vado a comprare una fotocamera Leica non spendo solo dei soldi per portarmi a casa una fotocamera, ma faccio un vero e proprio investimento. Sì, allora diciamo che quando questiona Leica, se la compri usato o la compri nuova, tendenzialmente il valore tende a essere molto stabile nel tempo. Abbiamo dei prodotti da collezione, anche nuovi, quindi si possono anche rivalutare nel tempo, o in alcuni casi quando acquisti un prodotto il valore rimane tanto stabile. Perché Leica cambia meno degli altri, il ciclo di vita di un nostro prodotto è 5 anni contro 18 mesi degli altri, ma soprattutto noi, seguendo tutta la filiera, siamo in grado di garantirti un valore anche dopo, nella fase di rivendita. E siamo qui in uno dei tempi di Leica in Italia, qui vediamo sia prodotti nuovi sia prodotti usati. Parlaci un po' di questo programma Leica Classic, esattamente per l'utente. Cosa significa? Significa che Leica vende i suoi stessi prodotti usati all'interno dei suoi punti vendita. Siamo l'unica azienda di macchine fotografiche che fa questa cosa, anzi forse l'unica nel mercato della tecnologia che gestisce direttamente il prodotto. Per essere sintetico, il cliente viene da noi, ci porta il suo prodotto usato, noi lo valutiamo, gli diamo una valutazione equa, lo mandiamo in Germania, se una macchina fotografica digitale full frame viene mandata in Germania per fare la certificazione, torna da noi dopo aver subito dai 10 ai 30 controlli in base alla macchina, al prodotto, eccetera, e viene garantito a livello internazionale per due anni. Ciò significa che tu acquisti un prodotto usato pagandolo chiaramente meno del nuovo, ma con la stessa garanzia del nuovo e la stessa garanzia dei controlli Leica. Come mi dicevi prima, una chiacchierata che abbiamo fatto è una cosa che non vale solo nello store, ma vale a livello internazionale, quindi io posso comprare una Leica garantita e certificata da Leica anche volendo che in un negozio in Giappone. Assolutamente, abbiamo aperto a settembre dello scorso anno la piattaforma globale che si chiama appunto Leica Classic, è il marketplace, l'hub, come vogliamo chiamarlo, di tutti i Leica Store del mondo che stanno aderendo chiaramente piano piano al programma, dove tu puoi comprare, come ho appena detto, una macchina da Leica Store di Tokyo, ce l'hanno là, la puoi ricevere direttamente qui, o un cliente di Tokyo, inglese, francese, tedesco, può acquistare da noi una macchina. Grazie alla garanzia internazionale, la barriera che c'è sempre stata, cioè sull'usato, la garanzia si fermava nella nazione in cui l'acquistavi, adesso l'abbiamo rotta definitivamente, grazie al progetto Classic, tu compri il prodotto e la garanzia la riesci a gestire in tutto il mondo. E la cosa molto interessante, soprattutto magari per quelli che vorrebbero una Leica ma non sono così esperti del marchio, è il fatto che se vai a comprare sul mercato dell'usato normale devi avere un buon occhio per valutare un Leica, anche perché il valore dell'oggetto è elevato, non è una vecchia macchina da vintage che puoi comprare e anche se non funziona non è un problema. Invece in questo modo io accedo appunto a prodotti, magari con un piccolo sovrapprezzo, perché naturalmente tutti i controlli che fate avranno un certo carico da mettere sulla macchina, però con la garanzia che non devo essere per forza un esperto di Leica per accedere al mondo Leica. Assolutamente, diciamo tutta l'expertise viene garantita e messa da noi e dai nostri tecnici, che si ha una vecchia macchina analogica da 300 euro anche marchio Leica, ha la nuovissima macchina digitale da 7000 euro, tutti i controlli che vengono fatti ti danno la certezza di acquistare un prodotto che funziona. Soprattutto hai la possibilità di entrare in contatto con noi direttamente, chiedere un consiglio, fissare addirittura una demo online se vuoi per parlare di uno specifico prodotto. Questo perché? Perché capiamo che Leica sta diventando sempre più famosa tra gli appassionati e essendo un brand che ha più di 100 anni, la conoscenza di chiunque può esserne limitata, quindi cerchiamo sempre di dare supporto ai nostri clienti. Magari la stessa lente 50 f2 su un micron è stata fatta in 7 versioni, perché dovrei prenderne uno o l'altro? Quindi è un po', diciamo un po' quello che ci piace di entrare in contatto con il cliente per consigliargli e dargli la tranquillità di fare un acquisto sereno, cioè dove poi alla peggio puoi fare il reso. Questa è sempre la logica della vendita online, anche internazionale, che hai sempre i 14 giorni di reso, l'acquisti, arrivano nel prodotto per te, ci chiami, magari dobbiamo spiegare una cosa, oppure puoi rendercelo facile. Parlavi di appunto prodotti particolari, mi ricordo quando proprio qui qualche mese fa ho parlato con il dottor Kaufman e aveva in tasca una Leica con un obiettivo Light Canada forse, che aveva un certo color shift che per lui era impagabile, quindi quello era un oggetto particolare, pure avendo delle caratteristiche tipiche di quell'obiettivo era proprio una chicca da appassionati. Il bello di Leica è proprio questo, la professione ottica costruttiva che ci contraddistingue da 100 anni c'è, ma è chiaro che la tecnologia va avanti, quindi magari trovi in qualche lente del passato una caratteristica particolare. Quella del dottor Kaufman, che era il 35 Summilux prima versione, ha la particolarità che se lo usi a 1.4 diventa una lente estremamente morbida e diffonde in maniera particolare la luce. Quindi ha un effetto particolare che ha solo lui. Poi ogni tanto noi facciamo le riedizioni di quelle lenti, le rimettiamo sul mercato, chiamate un po' più moderna, però rimane la bellezza di Leica e dell'usato Leica nel fatto che trovi di tutto per tutti gli occhi, oltre che per tutte le tasche. Questa è l'altra cosa interessante della chiacchierata che abbiamo fatto prima, perché mi dicevi da un lato, il programma Leica Classic sicuramente ha una grande garanzia per i collezionisti, ma dall'altro permette appunto anche a chi ha pochi soldi da spendere, hai citato anche l'analogico, magari appunto a chi vuole entrare nel mondo Leica passando dalla pellicola, è un giovane fotografo, è uno studente di fotografia, e appunto magari non è esperto del mondo Leica e di tutto quello che può essere anche una macchina a pellicola con tutte le meccaniche, la sicurezza di entrare con un prodotto appunto che anche sulla fotocamera a pellicola ha la garanzia. Certo, assolutamente. Se escludiamo la ormai super celebre Leica M con la M6 che abbiamo fatto la nuova edizione, eccetera, noi abbiamo un mondo analogico che mi viene da dire anche molto meno costoso del sistema M che è il sistema R, il nostro sistema Reflex che per un newcomer, un nuovo cliente o un nuovo appassionato è una grande opportunità perché costa il giusto, ha una qualità eccezionale, è ovvio un sistema non a telemetro, la Reflex è più particolare, però entra in mondo Leica con la qualità Leica spendendo meno con delle macchine che comunque continuiamo a garantire e senza problemi, senza pensieri, ti arriva a casa, metti il rullino e la macchina va. Che quella è la sicurezza. Visto che per molti giovani l'analogico magari è un po' ostico perché ha delle dinamiche loro sconosciute, mentre a noi molto chiare, avere la certezza che tutto funzioni anche se la macchina ha 70 anni, non è male. Quindi per tutti quelli che volessero anche per curiosità guardare un po' meglio questo programma Leica Classic, vengono in negozio, si trovano online? Due task point, il primo è il sito classic.leica-camera.com e in tutte le lingue quindi potete accedere e vedere direttamente sul sito tutte le macchine che ci sono al mondo e leggere più del programma oppure in Italia abbiamo 5 Leica Store, Milano, dove siamo ora, Roma, Firenze, Bologna e Torino. Andate lì, chiedete e sarete soddisfatti. Allora ringraziamo Gilberto per questa chiacchierata, adesso vado a vedere un po' anche i prodotti interessanti che ci sono qui al Leica Store di Milano, ho portato la carta di credito. Se a voi comunque è piaciuto questo video ricordatevi di mettere un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale e da me Roberto Colombo di Fotografi Digitali e Hardware Upgrade è tutto. Ringraziamo ancora Gilberto per la chiacchierata e buone Leica a tutti. Grazie, ciao, a presto. Grazie.